A sei mesi e mezzo di distanza dall'alluvione, il Comune di Cantiano ha organizzato un terzo momento di confronto con la sua cittadinanza per aggiornare i cantianesi sullo stato d'avanzamento dei provvedimenti di ristoro e sulle difficoltà tecnico-operative che si stanno gestendo. Su tutte, quella più prettamente burocratica di una macchina comunale troppo ridotta per poter coinciliare l'ordinario con la straordinaria mole di lavoro di ripartenza da una calamità naturale. Sembrerebbe tutto passato per chi, ahimè, non si è visto distruggere, vanificare i risparmi della vita in due ore di pioggia perché ancora i danni sono milionari. Noi tra patrimonio pubblico, privato e attività di impresa abbiamo quasi 70 milioni di euro di danni. Ad oggi nelle casse del Comune, grazie all'ultimo provvedimento di venerdì scorso, abbiamo in cassa qualcosa come 2 milioni di euro che però è un supporto marginale rispetto a quello che servirebbe. Ora il mio appello è quello di supportarci dal punto di vista tecnico-amministrativo perché finora il problema è non aver avuto le risorse, ora il problema diventerà metterle a terra, spenderle quelle risorse. Solo i provvedimenti legati ai ristori, ai privati cittadini e attività di impresa su Cantiano sviluppano 273 richieste di contributi. La struttura comunale ha un geometra e un ragioniere, quindi se l'obiettivo è la celerità del trasferimento delle risorse non è questa la strada perché se tutto va bene riusciremo tra mesi a poter dare ai cittadini e alle imprese quello che si aspettano. Quindi continuiamo in questo nostro appello accorato alle istituzioni, alla struttura commissariare regionale a fornirci supporto tecnico-amministrativo sia in termini di personale aggiuntivo o magari di risorse con cui a tempo determinato poter assumere personale da dedicare alla gestione emergenziale perché il Comune deve portare avanti anche l'ordinario, abbiamo i bilanci di previsione, quindi il rischio, il rischio serio è che così facendo si porti al collasso l'amministrazione comunale e quindi non si riescano più a garantire i servizi alla comunità. Ci sono però anche notizie confortanti come quelle arrivate nei giorni scorsi dal Parlamento che ha prorogato al 2025 i super bonus edilizi 110 per le aree alluvionate. Il rischio di questa proroga, di questo importante strumento in mano all'edilizia per la riqualificazione dei nostri immobili. È chiaro che non è il solo strumento necessario in questa fase. Non si sostituisce ai ristori ma ne diventa complementare nel senso che chi ha avuto un immobile distrutto non può prescindere dall'accesso ai ristori perché poi sappiamo quante difficoltà attualmente su cui ci sta mettendo mano il Governo centrale abbiano poi le imprese a farsi carico delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura con anche gli istituti di credito che non riescono in questa fase a poterli evadere. Quindi insomma per noi è un messaggio importante, è un altro pezzo di questo complicato puzzle che è necessario alla ripartenza delle nostre attività e quindi dell'intero territorio comunale.